Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è giovedì 22 settembre 2022 e oggi si festeggia San Maurizio, un santo che proviene dall'epoca romana, che è stato un martire, era un legionario, un legionario come tanti altri, come San Sebastiano, come altri militi, altri soldati che furono poi martirizzati appunto per la loro fede. Fu un martire della legione Tebea, una legione composta da 6.000 uomini, erano tutti cristiani, tutti cristiani che però combattevano sia per l'imperatore che per la loro fede. Fu mandato a morte dall'imperatore Massimiano che decimò la legione perché questa non voleva poi sacrificare agli dèi e non voleva soprattutto infierire con chi la pensava come loro, con i cristiani stessi. Stupendo è il quadro che ritrae San Maurizio e i suoi compagni dipinto da El Greco che ora si trova all'Escorial di Madrid, un quadro veramente bellissimo da vedere. Come ieri il ritratto di San Matteo, ieri era la festa di San Matteo dipinto da Caravaggio a Roma. Sono opere d'arte queste che rivelano così la bellezza e anche la devozione dei fedeli verso questi santi. Vediamo subito le previsioni del tempo. Oggi c'è un qualche rovescio residuo tra la notte e il primo mattino sulle coste. Il cielo su Fano questa mattina era appena velato da qualche nube. Poi il cielo poco nuvoloso ovunque, soprattutto nel pomeriggio. I venti sulle coste espireranno da una direzione di nord, mentre nell'interno debole da nord-nordeste. Le temperature si aggireranno, sono ancora in ribasso le temperature dai 17 ai 19 gradi. Erano 20 ieri, 21 l'altro giorno. Insomma gradualmente la temperatura diminuisce ed è fresco soprattutto al mattino. Ed ora apriamo i giornali a partire dal Corriere Adriatico questa mattina sulla pagina di Fano e vediamo una reazione da parte della dirigente della scuola media Padalino, Lucia Di Stefano. Lucia Di Stefano, c'è scritto Lucio ma ovviamente è un errore di trascrizione. Lucia Di Stefano che interviene dopo quanto è avvenuto nella scuola quando alcune mamme hanno reagito di fronte a dei timori nutriti. Si tratta di timori, non si tratta di realtà. Nutriti in merito ad un incidente che si è verificato ai danni di un ragazzino il quale nel tornare a scuola in bicicletta è caduto per la rottura dei freni. Ebbene si teme che questa rottura non sia accidentale, non sia fortuita, ma sia stata la causa di un danno effettivamente voluto, provocato. Quindi un piccolo episodio di vandalismo piccolo ma importante perché poi quel ragazzino cadendo si è procurato anche la rottura del polso. Quindi un danno importante. Ebbene la dirigente reagisce e dice faremo gli accertamenti necessari per vedere se veramente si tratta di un atto vandalico oppure si tratta di un incidente che è capitato e che nessuno poteva prevedere. Comunque vuole reagire per difendere il buon nome della scuola. La scuola Padalino che ha tutte le ragioni per essere valorizzata all'interno della città. È una scuola che ha raggiunto diversi risultati. Vi ricordiamo per esempio che è stata la prima a nominare la consulta dei ragazzi. Poi ha avuto anche delle mirabili relazioni con l'estero. Insomma è stata una scuola all'avanguardia e lo è ancora. Tutta la comunità scolastica esprime rammarico e preoccupazione per l'infortunio occorso al suo alunno e sarà cura degli organi competenti assicurarsi che la natura dell'incidente venga accertata al più presto possibile, ha dichiarato la dirigente. E a fondo pagina, sempre sulla stessa del Corriere, vediamo una reazione da parte degli ambientalisti alle parole del presidente della provincia Giuseppe Paolini. Il presidente della provincia è intervenuto sul dissesto idrogeologico, magari dando una velata, ma non tanto velata, accusa agli ambientalisti i quali insorgerebbero, insorgono ogni qualvolta c'è un provvedimento da fare per tutelare gli argini oppure per disboscare o no gli alberi, insomma, la vegetazione. Toccare un albero che ostruisce un canale perché c'è una rana sopra, aveva detto il presidente Paolini, oppure alzare un'argine perché devi tagliare alberi e asportare la ghiaia dai fiumi perché è un furto, ha detto il presidente sempre Paolini, è una bella fetta della colpa del disastro che si è appena consumato e quindi la attribuisce agli ambientalisti, ma quanto è avvenuto, secondo questi ultimi, è il risultato del non ascolto delle loro indicazioni, perché poi gli ambientalisti sono quelli che vogliono tutelare in maniera integrale il territorio. Ed ora apriamo la pagina per vedere che cosa è accaduto ieri sera a Poderino quando si è svolta una riunione per esaminare la questione della variante di Gimarra, ovvero l'ultimazione dell'Interquartieri. Ebbene il Comitato contro questo progetto ha esposto le proprie indicazioni. Ebbene il Comitato ribadisce il no alla variante e vuole cancellare la strada, insomma né da una parte né dall'altra, né verso Rocco Sambaccio, né parallela all'autostrada, né verso Gimarra. Perché? Perché la soluzione per il Comitato sarebbe quella di utilizzare il casellino di Fenile. Ebbene entrando in autostrada non ci sarebbe bisogno di un'altra strada e quindi le colline di Gimarra resteranno integre, resteranno intatte. La variante buona è l'atto che dovrà cancellare il prolungamento dell'Interquartieri dal piano regolatore fanese. Si eliminerebbe così il rischio che in futuro il progetto venga ritirato fuori da qualche cassetto. Lo ha detto Luciano Benini del Comitato per la salvaguardia della trave, Arzilla e Gimarra, durante l'assemblea convocata appunto ieri sera nel centro civico di via Redipuglia al Poderino, ovvero dove un tempo era la sede della circoscrizione. L'obiettivo immediato resta comunque lo stop alle attuali previsioni. Persone in piedi anche lungo il corridoio nella saletta, circa un centinaio i partecipanti. Dunque una assemblea che è stata molto partecipata da parte del pubblico e ci sono molti quelli che contestano questo progetto per l'ultima azione dell'Interquartieri che in qualche modo ferirebbe il paesaggio. Ed ora andiamo a Fossombrone. A Fossombrone nascerà un centro antifumo. Ebbene fumare una sigaretta un tempo era di moda, un tempo lo facevano quasi tutti, ora lo fanno di meno. Ma comunque anche chi si impadrona di questo vizio poi risulta difficile smettere. Perché? Perché la nicotina dà dipendenza. Ebbene un centro antifumo potrebbe aiutare coloro che desiderano smettere di fumare. E questa iniziativa viene perseguita dall'articolo 32, dalla cooperativa articolo 32 con il sostegno della Fondazione Carifano. Si è attivato un crowdfunding, ovvero una ricerca di sponsorizzazioni, di contributi per i quali poi la Fondazione raddoppierà con una somma che verserà a lei stessa per costituire questo centro. Un centro importante che potrebbe aiutare le persone che sono mai dipendenti dal fumo. E poi torniamo a Fano per indicare che questa mattina alle ore 11 al Pincio verrà inaugurata la Festa dei Fiori, ovvero Fano Fiorisce. Festa dei Fiori al Via con animazione e concerti. verrà inaugurata dall'assessore agli eventi Etienne Lucarelli. La mostra a mercato della migliore produzione dei vivaisti fanesi e anche quelli del circondario. Ovviamente saranno una trentina che arrederanno uno degli accessi più belli della città. Il Pincio è bello per conto suo, con tutte le sue zone archeologiche, ma arredato di un tappeto di fiori, proprio un tappeto roboante, un tappeto che esplode con i propri colori. Questa zona turistica è ancora più bello. Novità non mancano e la manifestazione è stata programmata da oggi per quattro giorni fino a domenica prossima ed è una felice ed ha una felice integrazione con l'European Mobility Week, ovvero con la settimana europea della mobilità. Grazie al comune denominatore Green, insomma un denominatore che fa di questa iniziativa un'iniziativa compatibile, integrata con il verde cittadino. Ebbene questa mattina sempre dalle 9 alle 13 nella sala di San Michele ci sarà un workshop muoversi con sostenibilità. E poi dalle 14 alle 18 in piazza 20 settembre l'allestimento di un campo prove per aree, test, dive di e-bike e autoveicoli elettrici, anche un'iniziativa per grandi ma anche soprattutto per bambini, organizzata a cura di Techfem e dell'assessore alla mobilità. E questo è quello che si preannuncia per il weekend. Vediamo ora Senigallia. Senigallia purtroppo è ancora alle prese con l'alluvione come buona parte del territorio delle province di Ancona e di Pesaro. Un pool di avvocati per gli alluvionati. Noi vogliamo aiutare le indagini. L'input del legale Sardella serve un intervento porta a porta per vedere i bisogni delle persone. Ebbene ora si passa la mano agli avvocati, alle indagini, soprattutto per cercare di stabilire come ha potuto verificarsi una situazione del genere senza che nessuno fosse stato avvisato in tempo. Ebbene ora si dovrebbe correre ai ripari per stabilire le relative responsabilità ma anche per far sì che in futuro non si verifichi di nuovo una situazione del genere. Nel limite del possibile le operazioni preventive devono funzionare e devono avvisare le popolazioni in tempo se per caso si preannuncia una forte tempesta come si è verificata la settimana scorsa. E mentre ancora ci si lecca le ferite per quanto è avvenuto procede anche la vita normale con i suoi punti oscuri. A Senigallia ancora vandali in azione nella pista di patinaggio. Un gruppo è stato rimproverato da alcune ragazzine. I teppisti hanno tentato di arrampicarsi per raggiungere il tetto dell'edificio vicino. Hanno lanciato delle sedie di plastica, hanno tentato di arrampicarsi per raggiungere appunto il tetto dell'edificio limitrofo senza successo. È accaduto ieri pomeriggio ma già era successo in passato. Sembra che sia stata rotta anche una porta colpita con un oggetto simile ad un martello da alcuni ragazzini. Insomma sono intemperanze. Queste sono di piccolo conto ma poi se poi si trascurano possono così dare seguito ad altre iniziative più gravi. E dato che prima abbiamo parlato dell'alluvione vediamo un po' come l'argomento viene trattato a livello regionale. Vediamo la pagina del primo piano Marche. C'è una ricostruzione di quanto avvenuto dall'assessore alla protezione civile Stefano Aguzzi. L'ammissione di Aguzzi ha detto papale papale non sapevamo niente. L'assessore condelega alla protezione civile prima delle 21 le telefonate di Acquaroli e Becchetti. Pensavamo che il caos fosse solo pesarese. In realtà poi il grosso si è verificato in provincia di Ancona. E qua abbiamo una cronologia di quanto è avvenuto quella sera. Quella sera maledetta quando poi è arrivata l'alluvione. Nel tardo pomeriggio del 15 settembre l'assessore Aguzzi comincia a ricevere delle chiamate dall'entroterra pesarese soprattutto dalla zona di Cantiano c'è una pioggia intensa. Alle ore 20 e 45 Aguzzi arriva a Senigallia. Aveva un appuntamento elettorale. Aguzzi è candidato per Forza Italia. Aveva un appuntamento al Cinema Gabbiano. Però in quel momento mentre stava appunto parlando con il pubblico arriva una nota della sala operativa della protezione civile che dice che il Misa è sotto controllo e l'attenzione si concentra sul metauro. Poi dopo, poco dopo, alle 21 c'è una chiamata di Acquaroli ad Aguzzi per sapere qual è la situazione. Aguzzi dice alle 22 che a Senigallia è scattato l'allarme. Il Misa comincia a fare paura e di lì a poco infatti sarebbe esondato. Alle 23 Acquaroli arriva in sala operativa a Dancona. Alle 24 lo raggiunge anche Aguzzi e poi si è esaminato quello che stava accadendo purtroppo in ritardo. Altro caso, nessuna traccia dei testi, delle registrazioni. Ebbene la scatola nera che avrebbe dovuto registrare tutte le conversazioni, tutto quanto era stato detto appunto quella giornata tragica. Di questo non c'è più traccia perché la scatola nera era fuori uso da alcuni mesi e nessuno se ne era accorto. È la scatola nera della protezione civile. Il Cinquecento a pregare per Mattia, signore Doveri, l'altra sera. È una domanda che si rivolge al Padre Eterno perché insomma hai permesso che accadesse questo. Mattia è il bambino di otto anni di cui ancora non si è rintracciato il corpo. È stato rintracciato qualche cosa che appartiene, il suo zaino. Insomma, c'è stata tanta commozione ieri in un corteo con tante persone che hanno ricordato questo fatto. Voci rotte dal pianto alla veglia per il bimbo disperso. C'era anche il vescovo Trasarti. Difficile dare risposte davanti a una simile tragedia, ha dichiarato. Comunque le ricerche del piccolo continuano senza sosta nel nevola e nei dintorni. C'erano anche tante altre persone a questo raduno. C'era il sindaco di San Lorenzo, Davide Dell'Onte. C'erano altri sindaci, il sindaco di Castelleone, Carlo Manfredi, di Frate Rosa, Alessandro Valtroni. Ebbene, c'erano anche membri della famiglia di Mattia. L'attesa è straziante, hanno detto. Speriamo che non duri ancora, anche se purtroppo non ci sono novità delle ricerche. Abbiamo visto ieri come il padre continua a sperare che il bambino, magari traumatizzato, sia ancora vivo. La fidanzata di Andrea ti aspetterò per sempre. Ieri a Pianello di Ostra, una delle frazioni più colpite appunto dalla tempesta che si è verificata la settimana scorsa, si sono svolti i funerali del calciatore e di altre tre vittime dell'alluvione. Il Vescovo Manenti, gli amministratori mettano subito in sicurezza il territorio. Toccante e composto l'ultimo saluto alle quattro vittime dell'alluvione di Pianello. Ieri pomeriggio nel campo sportivo della frazione. Tante, tante le persone, anche qui è tanta la commozione per quanto è avvenuto, per la tragedia che si è verificata. Ed ora diamo un'occhiata alla pagina di Pesaro. Vediamo come si parli di agricoltura in merito a tutti gli eventi atmosferici che hanno caratterizzato questa stagione. Prima la siccità, poi l'alluvione. Si parla soprattutto della raccolta dell'uva, la resa della raccolta più 5% rispetto al 2021. Sarà la qualità a salvare il vino dall'impennata di tutte le spese. Una vendemmia anticipata, ma generosa. Compensa ai rincari registrati dal sughero fino al vetro, ovvero la materia prima, per confezionare poi le bottiglie di vino. Il vino ce n'è di più. Probabilmente avrà una diminuzione di prezzo e compenserà l'aumento del sughero e del vetro che invece hanno subito dei forti rincari per l'aumento delle materie prime. E noi agricoltori abbiamo bisogno di fare un'autonoma manutenzione. Baronciani interviene in questo caso e dice invece ogni volta rischiamo di essere sanzionati dalla forestale. Ebbene, rispettare spesso delle leggi così oppressive è difficile ed è insomma una cosa che non va bene. Su questa pagina di Pesaro si parla della ciclabile di via Fratti, l'appalto è alle porte, però in questo progetto è stato stralciato il tratto lungo il Genica. Tra regione e mutuo l'amministrazione può contare solo su un finanziamento di 500 mila euro e quindi non ci sono soldi per tutti. Per il momento appunto questo tratto lungo il Genica, lungo il torrente che caratterizza il paesaggio pesarese, è stato interrato il torrente Genica, appunto viene stralciato. Cangini lascia la cella di Villa Fastigi. Sono solo, preferivo stare in carcere. Chi è Cangini è Vito Cangini, l'uomo che ha ucciso la moglie per gelosia. È stato condannato a 24 anni appunto per omicidio, ma le sue condizioni di salute sono peggiorate, per cui sono state dichiarate incompatibili con la sua detenzione in cella ed è stato rimandato a casa. A casa però ovviamente non può muoversi e solo è rimpiange il fatto di non essere in prigione, perché lì almeno poteva usufruire della compagnia degli altri carcerati. Piccoli e grandi corsi d'acqua nella provincia, ci sono enormi ritardi e pochissimi progetti. Interviene in questo caso il consigliere regionale Biancani, che afferma come l'ultima opera della regione risale a due anni fa. A Guzzi abbiamo fatto tanto per il Foglia, ma ora dopo quanto accaduto si corre ai ripari e si teme ancora per la sorte di tanti corsi d'acqua. In modo particolare quelli principali, ovvero per il Metauro, per l'Arzilla, per il Foglia di Pesaro, e adesso un po' tutti quanti dicono che bisogna intervenire. Così come per la messa in sicurezza di tre strade ancora chiuse per smottamenti, e questo a Monbaroccio soprattutto. E sono stati appaltati i lavori previsti, i canali di scolo e la riapertura. E qui in questo caso si tratta di intervenire al più presto nella zona appunto nel comune di Monbaroccio. La messa in sicurezza di Via Turlo comporta una spesa di 150 mila euro. L'intervento è stato possibile grazie al contributo di 100 mila euro da parte della regione. Martedì invece è partito il cantiere legato all'operazione contro il dissesto idrogeologico della Panoramica per un importo di 145 mila euro. Ebbè, insomma, ci sono interventi per cercare di migliorare la situazione. Veniamo anche alla pagina di Urbino. Estorsione e rapina, sei le condanne, vittima un imprenditore di Petriano aggredito e costretto a sborsare più di 100 mila euro prescritto il reato per chi aveva scatenato l'azione. Ebbene, per questa vicenda sono stati condannati per estorsione e rapina dal Tribunale di Urbino solo sei dei nuovi imputati collegati alla società di riscossione crediti Ises di San Marino per i metodi di poco ortodossi, erano poco coercitivi, con i quali avevano fatto valere le rivendicazioni economiche dell'imprenditore Carlo Marini di Petriano nei confronti dell'imprenditore Diego Cecchini. Quest'ultimo era stato aggredito proprio fisicamente nella sua azienda e secondo gli atti del processo era stato costretto a versare 72 mila euro all'Ises e quasi 44 mila a Carlo Marini. E di qui la sentenza. Ed ora passiamo al resto del Carlino. Il resto del Carlino apre con la riunione che si è svolta con oggetto alla variante di Gimarra ieri nel quartiere del Poderino e si pone in evidenza come la soluzione dovrebbe essere il casellino di Fenile. Quindi niente nuove strade ma solo questo casellino che in passato aveva ricevuto il parere contrario della sovrintendenza ora sembra che le cose si siano rimesse a posto la regione insomma sta attivando un nuovo procedimento per ottenere la realizzazione di questa infrastruttura e ottenere il casellino di Fenile vuol dire dirottare il traffico verso Pesaro sull'autostrada e poi c'è da discutere se sarà a pagamento o meno. Piove in classe e si fa lezione tra i secchi e questo è un problema che ha coinvolto la scuola elementare di Poderino protestano i genitori dei bambini che frequentano la primaria e interviene anche Fratelli d'Italia, la forza politica che dice questo non è solo il caso di problemi che coinvolgono le scuole ci sono infiltrazioni ovunque, i lavori sono in ritardo quindi Fratelli d'Italia prende l'occasione della protesta dei genitori per scuotere l'amministrazione comunale così come stanno facendo i componenti del Movimento 5 Stelle che intervengono e dicono è anche merito nostro se l'ampliamento della discarica di Monte Schiantello è stato scongiurato almeno per ora c'è questa giunta almeno per ora invece diamo notizia di una iniziativa della Caritas importante la Caritas di Fano si muove in aiuto delle persone vittime dell'alluvione in particolare la Caritas lancia per la giornata di oggi e domani nel centro di Via Piave 13 una raccolta di cibo e di prodotti per le pulizie e quindi chi può intervenire lo faccia per risolvere questo problema è stata annullata la mostra a mercato pergolese del Tartufo l'appuntamento è stato rinviato al prossimo anno una decisione sofferta ma inevitabile per il sindaco di Pergola Simona Guidarelli e per l'assessore al turismo Sabrina Santelli e anche per il direttore della Confcommercio Amerigo Varotti che hanno annunciato ieri l'annullamento di questa 26esima edizione un appuntamento importante di carattere turistico ed enogastronomico ad Urbino cittadinanza alla finanza desta contrarietà in Consiglio Comunale la cittadinanza alla finanza che verrà concessa pensate per quanto il corpo fece nel 1860 quando entrò in città per liberarla dalle truppe dello Stato Pontificio l'opposizione cappeggiata da Lorenzo Santi capogruppo del Partito Democratico dice che la cittadinanza si dà a una persona e non a un intero corpo e questa è l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20.30 l'occhio alla notizia di questa sera condotto da Simona Zonghetti e questo è veramente tutto buona giornata a risentirci Grazie Grazie